Amici della Capitale Immobiliare, benvenuti! Sono Alessandro e oggi sono qui per proporvi un bilocale di 70 metri quadrati in locazione in zona Milano-Fiera. Venite con me! Ci troviamo nell'atrio dello stabile, ci sono due scale, presenta la portineria part-time tutti i giorni, compreso il sabato. Abbiamo il cortile condominiale ed è presente ovviamente l'ascensore. Saliamo! Eccoci arrivati al quarto piano, accediamo all'immobile, abbiamo subito l'ingresso. Successivamente il disimpegno. Tra l'altro sopra l'ingresso è presente un piccolo ripostino in quota. Entriamo nella camera da letto. L'affaccio è esterno, così come per tutti gli ambienti dell'immobile. E tra l'altro abbiamo anche una grande armagliatura. E tutto l'immobile è arredato. Proseguiamo. Sulla vostra destra c'è la cucina. Ci sono varie armadiature, dispense. C'è il piano gas e tra l'altro ovviamente il frigorifero. Proseguendo. Proseguendo troviamo il bagno che è finestrato, con vasca e c'è anche la lavatrice. Ed infine ecco il soggiorno. Il soggiorno già nel tavolo da pranzo, con le sedie, poltroncine comode e divano letto. E anche l'uscita sul balcone. È presente l'area condizionata che troviamo nel soggiorno. La richiesta per quest'immobile è di 1250 euro mensili oltre 300 di spese condominiali. Per informazioni e per appuntamenti potete contattarci allo 02 27 012 118 oppure enviarci un'e-mail all'indirizzo mail info-capitaneimmobiliare.it Ciao!